Lui è Aaron, è un cavallo che purtroppo per uno sfratto del proprietario non poteva più tenerlo e siamo subentrati e l'abbiamo preso noi e è arrivato qui che aveva quattro mesi e da lì poi ha vissuto con noi. Lui non è domato, è libero, scelte per dare al cavallo una vita tranquilla e serena. Noi se volete aiutarci a fare che lui rimanga libero, tranquillo e sereno, chiamateci per adottarlo e aiutateci. Meraviglioso questo Aaron ed è bellissima la vita che ha fatto fino ad oggi perché vedete i cavalli sono animali intelligenti, sensibili e quella che è la sua storia è un po' come quella della mia Giulietta, la mia compagna di vita, la cavalla che è nata più di vent'anni fa in casa mia da un'anziana cavallona, la diva, che io avevo salvato da situazioni di maltrattamento che avevano caratterizzato la sua vita. Bene, Giulietta, questa meravigliosa cavalla che vive insieme alla mia tribù a quattro zampe, non è mai stata domata e non è mai stata cavalcata da nessuno e quindi non esitate, chiamate subito al rifugio il 3318613863 oppure come al solito scrivete a portamiacasa.chioccioladallapartedeglianimali.it e credete...